Plagas, lo vedi? Lo vedi questo PC? Guardalo, guardalo, non si muove. Cioè io muovo il mouse, non so come cazzo faccio fartelo vedere. Vabbè, io muovo il mouse, muovo il cazzo di mouse, e non gira, guarda. E non si muove, sta sempre là, sta sempre là, guardalo, si sprende il gioco di me. Dammato.